Appassionati di gossip e tv, bentornati nel mio canale. Si è appena conclusa la registrazione della semifinale di Amici che non andrà in onda questo sabato sera, ma è stata spostata a domenica in quanto sabato sera è in programma la finale, dell'Aurovision. Se, come me, siete curiosi di scoprire insieme che cosa è successo, ma, prima, vi invito ad iscrivervi al mio canale e da lasciare un mi piace al video. Grazie! L'ospite musicale della puntata è i Rama. Anche in questa puntata ci sarà soltanto un'eliminazione e scopriremo i nomi dei finalisti. Saranno 4 o 5. A sfidarsi saranno sempre i Zerbicele contro i Cuccalo dato che i Todarelli non hanno più allievi in gara. Nella prima manche vincono nettamente i Zerbicele con Marisol che vince entrambe le sfide ed è la prima finalista. Nella seconda manche è Dustin ad aggiudicarsi entrambe le sfide battendo Mida e Sara. Il secondo finalista è Dustin. Nella terza manche Petit vince due volte contro Mida e Sara, mentre quest'ultima batte Holden. Il terzo finalista è dunque Petit. Il ballottaggio finale servirà a decretare il nome del quarto finalista. Sono rimasti in gara Sara, Mida e Holden ed è proprio lui il quarto finalista. Sara e Mida hanno continuato a sfidarsi e uno di loro accederà alla finale come quinto finalista. Cosa ne pensate di queste anticipazioni? Chi sarà il quinto finalista tra Mida e Sara? E, secondo voi, chi vincerà questa edizione di Amici? Fatemelo sapere nei commenti. Al prossimo video, ciao!